Amici sportivi facciamo il post partita di Trapani-Licata, il primo tempo è finito sul risultato di 1-1, andiamo a vedere la formazione del Trapani con Sfuma, Calboni, Gonzales, Calbonaro, Maringuso, Mascari, Catania, Cancemi, Pipitone, Pane Bianco e Cosavan. Per la cronaca al minuto 14 Trapani in vantaggio con Catania che riporta i suoi in vantaggio, recupera palla a Mascari che serve Catania che la mette in rete dal limite l'aria, infila il portiere Valenti, non può fare nulla. Al minuto 18 Tiro dai 30 metri di Vitolo che sospente Sfuma che pareggia il Licata. Quindi al diciottesimo 1-1 il parziale al provinciale, al ventisettesimo cartellino giallo per Cosavan a causa di un fallo a centro campo. Poi al 34 corpo di testa al limite l'aria di rigore Sfuma si allunga e manda Pima sulla travesta e poi in angolo. Al minuto 38 ci prova ancora il Licata, ma Sfuma vola e mette ancora in calcio d'angolo. Al 45esimo il direttore di gara concede due minuti di recupero del primo tempo, al 46 ammonito Cappello per un fallo su Catania. Al provinciale finisce, dopo due minuti di recupero, finisce il primo tempo, Trapani 1-1, Licata 1, decida e gole di Catania per il ganatata. Passiamo alla cronaca del secondo tempo, al 55esimo ammonito per Manincuso, cartellino giallo. Poi andiamo al 62esimo giallo per Fiserna, per Lillicata. Poi al 63esimo ci prova Cosavan da fuori, pallata sopra la travesta. Al 73esimo campio per il Trapani, fuori Cosavan dentro De Pace, cartellino giallo per un giocatore ligatese. Al 80esimo campio per il Lillicata, fuori Cappello dentro Grau. All'82esimo, un altro campio per il Lillicata. All'85esimo, un altro campio chiamato dai ligatesi. All'85esimo super a gole di Manincuso, che supera in contropiede due avversari sulla fascia sinistra. Entra in aria, lascia partire un tiro che piega le mani del portiere avversario. Trapani in vantaggio, poi al 88esimo campio fuori Calbonaro dentro Giuffita. All'89esimo esce Cancemi e entra Santa Paola. Al 90esimo all'arbitro concede cinque minuti di recupero. Non succede più nulla, nonché qualche tiro da fuori dell'Lillicata, ma nulla di fatto. Dunque, ripetiamo il risultato del provinciale. Trapani 2, Lillicata 1, grazie alla rete nel primo tempo di Catania. Poi il pareggio dell'Lillicata e all'85esimo i gol del vantaggio con Maringuso. Trapani che adesso si mette a un punto dal terzo posto occupato al momento dal Sant'Agata. Domenica prossima traspetta in Calabria con la Vibonese. Altro importante scontro diretto.